Allora, io invito in scena subito Ilaria Magna Guagno. Allora, Ilaria, buonasera a te. Tu sei fresca fresca di Sanremo, della sesta vetrina di Primo Lucio Dalla a Sanremo. C'è un piccolo particolare nel tuo costume di scena. Allora, come mai canti scalza? Allora, come dico nella canzone che adesso sentirete, uno dei miei valori è essere una persona libera. E mi sentivo di cantare scalza e l'ho fatto. Allora, Ilaria, il titolo del brano? Libera. Ilaria Magna Guagno. Grazie. Tutto questo caos un po' mi confonde. La vita è troppo piena e spesso mi sfugge così. Mi ritrovo qui Immersa tra le righe di pagine bianche, riscrivo la mia vita, ma resto distante a guardare Quello che mi accade è libera il mondo che tieni dentro. Già sai? Come diceva Freud Tararata 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 E libera il mondo che vieni dentro, già sai, come diceva Freud. Au revoir. Tata-tata 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 Ilaria Magna Guagno con questo simpaticissimo brano grazie e speriamo di vederci anche il prossimo Sanremo alla vetrina